Ciao sono Luca Rossi, mi candido con Pietro e la sua squadra perché penso che il lavoro svolto in questi cinque anni sia stato un ottimo lavoro. Vorrei portare un contributo concreto al nostro paese che vivo a 360 gradi. Tanto è stato fatto ma ancora tanto si può fare. Ogni viaggio comincia con un passo. Facciamolo insieme.